Numerosi i rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni nella messa della comunità di Sant'Egidio. I ministri italiani, Piantedosi e Valditara, la figlia del capo dello Stato, Laura Mattarella. Nell'omelia il cardinale Zuppi ha ricordato l'Ucraina e le altre zone di conflitto. Gettiamo i semi di un mondo nuovo, ha detto il presidente della CEI. Iniziamo da oggi il cessate, il fuoco. Scegliamo di essere operatori di pace. E la comunità di Sant'Egidio chiede di sospendere le sanzioni a carico della Siria per facilitare gli aiuti umanitari nelle zone colpite dal terremoto. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il cardinale Zuppi a proposito del sisma in Turchia e in Siria e le iniziative di solidarietà della Chiesa italiana. Poline a voi. Molte città ancora non si sa bene quante distruzioni e quante morti ci sono state. Quindi tanta vicinanza, tanta solidarietà che speriamo possa arrivare soprattutto in Siria e che si possa permettere una presenza adeguata per rispondere alle necessità. Faremo una raccolta nazionale e alcuni responsabili della CAIT sono già sul terreno per vedere, per coordinare.